Una tredicenne trevigiana è rimasta seriamente ferita in un incidente sugli sci stamane sulle piste della Tofana, a Cortina d'Ampezzo. La ragazzina stava scendendo assieme al padre quando ha perso il controllo degli sci, finendo contro un albero oltre il bordo pista. Subito soccorsa dalla polizia in servizio sulle piste, è stata poi trasportata dall'elisoccorso del suo MdP di Cadore, all'ospedale di Belluno. La giovanissima non è in pericolo di vita, ma visti i traumi riportati per lei, la prognosi è attualmente riservata.